Una situazione quasi kafkiana e scontro aperto tra Acciaglieri d'Italia e DRI d'Italia, due aziende presiedute entrambe dal manager Franco Bernabè. DRI è la società controllata interamente da Invitalia, che è stata costituita per la produzione del predidotto, il materiale che verrà utilizzato per la carica dei forni elettrici nella progressiva decarbonizzazione dell'exilva. Una lettera molto critica è partita dall'amministratore delegato di Acciaglieri d'Italia, Lucia Morselli, nei confronti di DRI d'Italia e dei commissari di Il Vaina S. La vostra comunicazione relativa al progetto di realizzazione dell'impianto di produzione del predidotto presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, scrive Morselli, e la correlata comunicazione di Il Vaina S, non fanno che confermare la fondatezza delle criticità tecniche, economiche e legali più volte evidenziate dalla nostra società. Acciaglieri d'Italia aggiunge, si è ripetutamente permessa, di ricordare che la realizzazione e la successiva gestione, tecnicamente efficace ed economicamente efficiente dell'impianto, richiedono il diretto coinvolgimento del gestore dello stabilimento, che è il solo ad avere le esperienze e le conoscenze tecniche e operative necessarie alla definizione e organizzazione del progetto. Morselli imputa a DRI il rifiuto di condividere con Acciaglieri d'Italia la propria relazione tecnica sul progetto, nonostante l'abbia da tempo trasmessa ad Il Vaina S, un intreccio difficile da districare.